ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast corriere c'è come al solito vi faremo compagnia per qualche minuto della vostra giornata e vi racconteremo le news più importanti dal mondo ciao amiche e ciao amici benvenuti e benvenute in questa nuovissima puntata del podcast firmato corriere c'è come al solito prima di partire io ringrazio il mio prode collega nonché regista della situazione andrea caprarelli ciao andrea come stai pollice in su andrea sta bene e poi saluto il mio collega di tante avventure guglielmo ferrazzano ciao guglielmo ciao luigi saluto il pubblico e dico questa chicca qua perché qualcuno dal pubblico potrebbe dire ma andrea come è fatto noi lo sappiamo ma potrebbe anche essere un'entità che non esiste e quindi la regia essere autogestita giusto per restare in tema di metaverso che qualcosa che abbiamo trattato in una precedente puntata ma comunque scherzi a parte noi oggi siamo in compagnia di un ospite ma dal momento che si tratta di una persona che opera in un campo che non è di mia competenza ma è di competenza dell'amico qui con la maglietta giallo canarino io non è giallo canarino è giallo ocra ti lascio presentare l'ospite ti lascio chiacchierare su un tema che ci riguarda tantissimo da vicino e quindi ti auguro già una buona chiacchierata grazie per questo scaricabarile allora i nostri amici sappiamo che in questi giorni l'argomento imperante è quello del conflitto in ruo tra russia ed ucraina e ci sono tanti punti di vista difficile dire quale qual è diciamo il punto di vista più corretto perché in questi casi le notizie che partono da quei territori sono di difficile verifica arrivano dai giornalisti da chi riesce a comunicare dalle aree di crisi se ne dicono di tutti ce ne sono come dire tanti punti di vista se ne dicono di tutti i colori e noi quello che facciamo oggi una chiacchierata per riflettere senza far passare il messaggio al pubblico che c'è un punto di vista determinato perché qui la verità in tasca non ce l'ha nessuno però è bene fare delle riflessioni a tutto tondo per alimentare un po il pensiero critico ma soprattutto condividere anche un po quello che il sentimento generale in questi giorni di di conflitto io introduco l'amico emiliano pepe e laureato in scienze politiche e che fa molto spesso delle riflessioni puntuali anche sui social precise e anche sostenute da da dati come come fanno i buoni storici o semplicemente persone che quando condividono lo fanno sulla base di qualcosa di concreto ma questa è una chiacchierata quindi parliamo di questo conflitto lo dicevamo in tra di noi sui telefono tramite telefoni che le notizie che erano vere ieri oggi non lo sono più quindi anche fare un punto di vista tecnico di legnare scenari è praticamente impossibile perché può cambiare tutto all'improvviso certo emiliano io ti lancio un'idea che è un po una domanda un po generale tu che idea ti stai facendo di questo di questo conflitto soprattutto secondo te si poteva evitare questo sì sicuramente infatti come diversi 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 diverse organizzazioni che si occupano di studi internazionali tra cui l'ispi anche sicurezza internazionale di orsini avevano previsto il conflitto comunque la zona calda quella dell'ucraina già dal 2018 per cui se le organizzazioni sovranazionali si fossero mosse in un determinato modo è possibile che attraverso la diplomazia si riusciva a risolvere il conflitto insomma quantomeno a prevenirlo no perché diciamo quando è venuta fuori l'idea e putin aveva quei colloqui con il da attraverso il tavolone gigante con gli altri leader internazionali si aveva un po l'idea noi seduti a tavola a cenare a guardare il telegiornale ma figurati se nel 2022 può scoppiare un conflitto che siamo stati abituati sempre a concepirlo come tale solo sui libri di storia ebbene ciò è accaduto quindi che idea un po anche sulla diplomazia secondo te tecnicamente c'era un margine di manovra che avrebbe permesso di evitare questa tipologia di risposta aggressiva da parte della russia e ma infatti gli incontri con putin sono venuti tutti quanti tutti quanti singolarmente i vari capi di stato hanno incontrato putin hanno incontrato putin penso che se la comunità europea o anche magari se solono oppure anche la stessa i vertici della nata avesse incontrato putin sarebbe stato diverso sarebbe stato un conte presentarsi da solo come capo di uno stato capo di governo è un conto invece agire attraverso le organizzazioni sovranazionali ma infatti c'è una riflessione che ha condiviso il giornalista erico mentana che non ha bisogno di presentazioni attraverso la sua pagina social ora non ricordo se facebook o twitter probabilmente tutte e due che ha detto in questo momento i diciamo i leader dell'unione europea si dovrebbero alzare andare tutti quanti a discutere un'azione diciamo sarebbe stata anche a livello di immaginazione fortissima lì i scontri si sarebbero dovuti fermare e forse la debolezza di questi colloqui era si fa uno ad uno il colloquio però io in qualche modo posso venderti la verità che tu vuoi però poi infatti da quelle che sono informazioni venute fuori ma che devono ancora essere verificate e putin stava da anni pensando a questo tipo di risposta e quindi diciamo poteva la diplomazia muoversi un po diversamente quello è il problema secondo me perché anche nei rapporti uno a uno non reggono nel confronto non lo puoi leggere con con la russia di putin lo puoi leggere invece coalizzandoti e presentandoti lì al tavolo in più persone questo è sostanzialmente il problema quindi lui le battaglie o diciamo così i confronti uno a uno è superiore e per quanto riguarda invece perché dobbiamo anche chiarirlo la dopo il primo conflitto mondiale dalle ceneri della società delle nazioni tramite la conferenza di san francisco nel 45 nasce l'uomo che tra i suoi scopi aveva ed ha proprio oggi quello di limitare i conflitti o meglio dire proprio eliminare la guerra come risoluzione strumento di risoluzione delle controverse internazionali quindi qualcuno un po puntava il dito a dire abbiamo l'onu abbiamo la nato che è un patto militare abbiamo l'organizzazione l'unione europea che è un'organizzazione internazionale di tipo particolare però sembra che questi strumenti non abbiano funzionato quindi un po il dito puntato in senso critico c'è su questi strumenti sì questo senza dubbio anche perché poi l'onu è venuta a mancare è venuta meno anche nel conflitto in Iraq che ha proprio se non sbaglio la risoluzione dell'America e dell'Inghilterra per l'attacco all'Iraq e quindi il rovesciamento del regime di Saddam Hussein con delle proprie false sì che poi si sono dimostrate false esatto tu prima durante la nostra preparazione mi facevi anche un discorso di tipo squisitamente diplomatico e cioè come era composta composto il mondo russo e quale potrebbe essere un problema nel voler porre fine al conflitto cioè quello del riconoscimento di alcune ecco se riprendiamo quel filo certo allora quindi c'è questo il problema come detto come ci dicevamo prima la federazione russa è composta da 21 repubbliche da 85 entità territoriali di queste 21 mancano però l'appello la Crimea e le repubbliche del Donbass che dovranno ricevere riconoscimento da parte della comunità internazionale al momento nemmeno quella della Crimea è riconosciuta infatti nel 2014 annessa la Russia in quale sono filo russi la comunità internazionale e l'Ucraina non l'hanno mai riconosciuta solo una parte della comunità internazionale e sappiamo che nel diritto internazionale per essere riconosciuti come stato deve avere riconoscimento appunto non dico di tutta la comunità internazionale ma quantomeno di larga maggioranza esatto poi parliamo che nel mondo secondo il diritto internazionale siamo più o meno sui 200 soggetti di diritto internazionale più di 200 quindi 200 stati insomma almeno la metà se non oltre ti deve riconoscere ci sono i riconoscimenti di fatto con l'apertura delle sedi diplomatiche insomma è un mondo affascinante che però ci pone una riflessione che anche un po il timore secondo te da cittadino proprio puro si potrebbe ci potrebbe essere una parvenza di escalation che anche perché essendo comunque una persona che studia tanto anche certi argomenti ci possa essere un po quel ritorno ai conflitti del passato e quindi un escalation che porti da un conflitto determinato uno su larga scala non diciamo mondiale che è un parolone però quantomeno che ci possa essere un coinvolgimento attivo a livello militare di altri paesi questo sì certamente uno si augura di no si augura e perciò anche gli appelli di zelensky del coinvolgimento dell'unione europea o della nato sono sono un po troppo e come dire inopportuni sono inopportuni perché si finirebbe con coinvolgere anche altre nazioni e quindi l'escalation salirebbe di livello fino a portare ad una guerra mondiale ciò che nessuno si augura anche perché è stato visto da uno studio che ha tenuto l'università di princeton in america che le solite state nucleari potrebbero provocare sui 90 milioni di morti in due tre ore cifra assurda e io comunque voglio voglio intervenire dicendo di che mi state mettendo molta allegria con questa chiacchierata quindi spero che l'allegria la stiano provando anche le persone a casa questi numeri sono molto confortanti assolutamente guarda ci vuole ma perché la nostra è appunto una chiacchierata noi speriamo che poi tutti gli strumenti quindi questo caso ecco si parla è una domandina c'è al riguardo non c'è più quel conflitto infatti noi ci auguriamo che il conflitto come lo abbiamo conosciuto sui libri di storia non esista più a prescindere però c'è anche un altro attore in gioco che è la guerra informatica la guerra che l'abbiamo vista col covid andare a tentare di rubare i dati sui vaccini di altre aziende e quindi anche qui in questo caso ci sono gruppi di attivisti chi lo fa per uno scopo chi per un altro c'è l'intervento di una guerra digitale ti sei fatto un po' un'idea su questo conflitto telematico sì questo sì però penso che i dati non siano facilmente accessibili cioè ci sono delle reti segrete di reti interna all'interno degli stati dove i dati sono sicuri può succedere può accadere che magari uno riesca ad inserirsi però ad accedere a delle dati così segreti e sensibili la vedo molto difficile la vedo quindi tu pensi che comunque sia al discapito di qualche notizia che sta avvenendo fuori comunque sia tutti i governi hanno la intranet la rete interna privata per cui almeno proprio quelle informazioni fondamentali non escono fuori no quindi perché un po passa passando l'idea che con questa battaglia informatica si possa buttare giù qualche modo questi protagonisti del conflitto ma anonymous poi non è la prima volta che interviene fino ad oggi comunque non ha risolto nulla cioè beh non anonymous comunque è un piacere insomma averli iscrivati al proprio fianco certo certo è un gruppo di attivisti molto particolare però ecco come dicevamo anche prima non sarà la guerra telematica a risolvere il conflitto ma secondo te come potrebbe appunto avviarsi verso lo stop questo conflitto sperando nel panorama più positivo possibile per tutti certo le sanzioni cioè giocano un effetto notevole d'impatto sull'economia russa infatti il rubro è sceso del 30 per cento e i titoli di stato russi sono considerati poco più che spazzatura ma non basta non basta questo occorrono dei negoziati ma occorrono che secondo me che negoziati si aggiunga anche un terzo attore la comunità internazionale che vogliamo chi per esso l'onu oppure magari un'europea che possa fare da passire tra l'ucraina e la russia quali secondo te le con scuse perché non lo risolvi così altrimenti il problema c'è il 54 per cento degli ucraini si sente filo occidentale il 46 per cento si sente filo russo e anche se fossero a parti inverse comunque c'è una divisione netta tra chi tra filo occidentale e filo russi quindi secondo te il terzo attore ci vuole perché come ruolo diciamo in qualche modo in posizione neutrale rappresentante la comunità internazionale possa essere quell'attore terzo e imparziale che riesce a e riesce a riequilibrare questi flussi di energie che vengono da un mondo e dall'altro quindi un discorso a tre e non a due fondamentalmente di aspetti e invece l'altra domanda che ti volevo fare è secondo te noi italiani noi altri occidentali quali le conseguenze a breve termine di questo conflitto ti lancio proprio un'idea perché l'idea che lo scenario più probabile è che anche noi vivremo comunque un periodo di difficoltà economica non solo dovuto al conflitto ma dovuto anche al fatto che veniamo fuori dalla stiamo venendo fuori dalla pandemia quindi uno più uno fa due quindi secondo te quali le conseguenze per noi? forse forse c'è l'Italia tra i paesi dell'Unione Europea che più è sensibile alle sanzioni date alla Russia dipendiamo molto dal gas russo diversamente dalla Germania e da qualche altra nazione e abbiamo un'economia meno forte delle altre e i soldi che erano destinati per il PNR rischiano di essere assurbiti dal piano energetico al quale poi dovremmo pensare perché non possiamo dipendere troppo dall'estero sì sì infatti l'ultima battuta poi lascio un po' una riflessione a Luigi se la vuole fare e questo leggevo e apprendevo anche dai telegiornali che se noi sulla questione energetica o delle risorse anche primarie facessimo un discorso non come nazione ma come Unione Europea la Unione è di fatto non solo mera Unione dei trattati potremmo ottenere anche solo con l'energia dei grossi risparmi in bolletta perché avremo delle reti che comunicano tra stati e stati e quindi gli stati si una mano che... ha una cosa importante, un aspetto importante che la Russia si pensava che dovesse occupare solo il confine fino al fiume di Nep di Nep, sì così se non sbaglio la pronuncia invece si sta spingendo fino alle centrali nucleari perché la Lucraina fornisce il 40% di energia alla Russia e come ho sentito stamattina gli americani sospettano che presso queste centrali nucleari ci siano delle armi atomiche nel passato regime comunista e per cui la Russia vuole metterci le mani sopra cioè far sì che non giunga qualcun altro a prendersene infatti leggevo poco fa una notizia che pare che dalla centrale di Cernobyl sono moderato alcuni tipi di comunicazioni verso l'esterno si sono interrotte comunicazioni di tipo tecnico quindi ci sono due teorie o che il personale russo lì abbia messo mano ai sistemi di comunicazione oppure che ci siano dei meri errori tecnici noi speriamo sempre il panorama migliore e che tante notizie anche un po' tragiche che arrivino siano in realtà dei falsi allarmi Luigi cosa vuoi condividere? Sei molto contento proprio? No, contento ovviamente per la presenza di Emiliano e per quanto anche se in pochi minuti ho potuto imparare in realtà la mia è una riflessione molto estemporanea provengo da un mondo completamente differente insomma seppur ha a che fare col mondo del giornalismo ma il giornalismo scientifico quindi negli ultimi due anni ho fortificato tantissimo le ossa sulla questione della disinformazione in quell'ambito scientifico e la cosa della quale mi meraviglio ancora oggi è che purtroppo nonostante i due anni di pandemia nonostante i due anni di infodemia che abbiamo vissuto ancora non abbiamo imparato che effettivamente anche nel campo dell'informazione soprattutto quando si parla di argomenti così delicati così di impatto sia mediatico ma soprattutto impatto proprio da un punto di vista emotivo facciamo ancora tanta difficoltà a discernere le informazioni perché davvero c'è tantissima disinformazione ci sono tantissime false informazioni che girano e che creano ancora di più confusione alle persone infatti io faccio questa proposta poi non lo so se Emiliano sarà d'accordo o meno siccome questo video che noi stiamo registrando oggi sul podcast non sarà possibile farlo quasi sicuramente però sul video che caricheremo su facebook su youtube insomma poi lo vedremo in un secondo momento se hai anche del materiale dal quale poterci iniziare a fare un'idea qualcosina di affidabile qualche dato affidabile dal quale partire noi te ne saremmo sicuramente molto grati almeno per dare un'indicazione alle persone per insomma dargli quantomeno qualcosina dal quale partire per farsi un'idea un pochettino più strutturata di certo non avranno il tempo e la forza e l'energia di approfondire tutto però quantomeno è una base di partenza dalla quale partire certo vabbè io onestamente mi informo sui canali che ritengo più imparziali e seri sono l'ISPI, l'Istituto di Studi Politici Internazionali e Sicurezza Internazionale di Alessandro Orsini il professore Alessandro Orsini sono quelli i canali poi un po' di perpassione storica qualche lettura così però fondamentalmente quelli che sono i canali che più seguono quindi comunque hanno a che fare sempre con vie ufficiali, vie istituzionali insomma così come è stato un po' il monito di tutto il periodo della pandemia facciamo riferimento solo ai siti ufficiali del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità della Protezione Civile anche in questo caso ovviamente ascoltiamo i telegiornali informiamoci perché è bene restare informati su certe notizie però ponderiamo anche le cose e ne va soprattutto della nostra salute mentale che già da due anni è stata abbastanza colpita con tutte queste informazioni Guglielmo io direi che la possiamo chiudere qui perché è stata veramente una chiacchierata illuminante almeno per quanto mi riguarda perché sono ignorantissimo in materia e quindi insomma ringrazio te, ringrazio Emiliano, ringrazio il buon Andrea dalla regia che come al solito ci ha guidato con la sua sapienza e con la sua saggezza mettendo mano sui tanti tastini della regia che non sappiamo se esiste veramente Andrea esatto potrebbe essere un avatar, sappiatelo quindi Guglielmo grazie a te, grazie ad Emiliano anche io ringrazio Emiliano, ringrazio Luigi, ringrazio il pubblico perfetto e niente detto questo noi vi aspettiamo, ci rivedremo nelle prossime puntate del podcast e del video perché ci state anche guardando firmato Corriere Cielo Oltre a te, grazie a te, grazie a tutti Guglielmo grazie a te, grazie a te